La filosofia anarchica di Enrico Malatesta I politici sono da ritenersi, senza eccezioni, inadeguati per garantire il presunto interesse comune Il nostro partito baluardo Sono tutti membri di un'entità metafisica chiamata governo di cui, secondo Malatesta, possiamo fare a meno Adesso sono i degenerati che comandano Tornando ad occuparci di solidarietà, che è la legge naturale dell'umanità Noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose Il problema è che non ci viene neanche concesso di immaginare l'utopia di una società senza governo Senza essere etichettati come sognatori o peggio ancora delinquenti L'unica cosa al mondo che non puzza del vecchio è la chigliottina Il modello anarchico è senza dubbio perfettibile, come lo è qualsiasi modello sociale Altrimenti non ci si spiega perché un cittadino che non indossava la mascherina veniva trattato come un criminale Mentre un governante che bombarda un altro paese è un liberatore Un criminale a dirigere la repressione È questa la giustizia nella società verticale? Chiederebbe, ma la testa? Evidentemente sì, ma non mi meraviglia che qualcuno non ci si riconosca